Ospite dell'approfondimento di questa sera è il senatore Lorenzo Basso, buonasera e grazie per essere venuto a trovarci. Si sta chiudendo praticamente ormai il 2023, di fatto è stato il suo primo anno in Senato, quindi con un'esperienza nuova, importante, prestigiosa. Insomma che bilancio può trarre già? Ma sì, per me è stato un ritorno, però dopo vari anni che ero ritornato alle mie aziende, è un ritorno a tutto campo, a un impegno completo in politica, in Senato, è stata sicuramente un'esperienza molto importante e anche abbastanza complessa, perché comunque, appunto, nonostante avessi già avuto modo di fare un mandato alla Camera e quindi di comprendere come funziona il meccanismo dei palazzi e dei ministeri, è sempre molto complesso riuscire a farlo in una situazione, diciamo, così particolare. Il 2023 è stato l'anno in cui abbiamo dovuto vedere, affrontare l'inflazione per le guerre alle nostre porte, è stato l'anno in cui si è dovuto provare a far ripartire il paese dopo una pandemia che ha molto colpito le nostre città, le nostre persone, quindi è stato sicuramente un anno molto complesso. La Liguria a Roma, com'è percepita? Credo che non sia abbastanza percepita, almeno, io forse tendo ovviamente, come molti di noi, a parteggiare per la nostra regione, ma ho avuto l'impressione che ci sia stata una sottovalutazione dei problemi e anche delle opportunità che la nostra regione può dare al paese. Lo dico perché veniamo da anni in cui invece la regione Liguria aveva ricevuto importanti finanziamenti, penso alla Diga, al Terzo Valico, penso al nodo ferroviario, penso alle opere per andare a ripagare i genovesi e i liguri di tutto quello che hanno subito. Ecco, dopo anni in cui la Liguria ha avuto grande attenzione, devo dire che in quest'anno non abbiamo visto particolari finanziamenti a nuovi progetti, non abbiamo visto un'attenzione ad alcune grandi problematiche come quella del traffico, come quella dei trasporti, delle infrastrutture, di cui noi in Liguria abbiamo molto bisogno. Non per questo non si è trattato di Liguria, non ci sono stati dibattiti, c'è stato sicuramente alcuni momenti in cui la Liguria è stata protagonista, ma non credo a sufficienza come meritiamo. Senta, vediamo passare delle immagini, mentre parla, proprio legate alle autostrade e al ormai caos autostradale consueto. Qualche settimana fa lei ha incontrato anche l'amministratore delegato di Autostrade per Italia, Tommasi, in qualche modo non era ovviamente il focus solo a Liguria, ma lei da Ligure ne ha approfittato per metterlo un po', dico con le spalle al muro, però metterlo anche di fronte a certe responsabilità per quelle che vi concernono, ma soprattutto per capire cosa potrà accadere nei prossimi mesi. Lei ha fatto una domanda anche molto particolare, molto secca, insomma, cosa ci dobbiamo aspettare nei futuri, nei prossimi mesi? Sì, credo che questa sia una delle opportunità dovute appunto ad avere avuto un'esperienza anche precedente, quella rispetto al passato, di approfittare di ogni occasione per rimettere al centro quelle che sono le problematiche della nostra terra, della nostra regione. Io credo che appunto la questione del traffico autostradale, ma non solo, sia una delle grandi priorità di questo territorio. Noi ormai viviamo da tempo bloccati nel traffico, un traffico congestionato, viviamo con l'incertezza di non sapere quando arriveremo ogni volta che ci mettiamo in macchina. Io vivo con grande patimento anche personale, ogni volta bloccato in autostrada che vedo un'ambulanza che ha difficoltà a passare e mi domando chi sarà dentro quell'ambulanza e se riuscirà a arrivare in tempo. Credo che sia una situazione obiettivamente difficile e che sta creando grande danno. Ed è il motivo per cui, forse anche insistendo con eccessiva durezza, ma colgo ogni occasione per ricordare questo a tutti i nostri interlocutori. Autostrade ha annunciato ancora Cantieri e Cantieri. Noi siamo favorevoli a ogni cantiere di messa in sicurezza, ma non si può continuare a vivere in questa situazione. Quindi bisogna andare a pianificare diversamente quelli che sono i cantieri e bisogna anche aggiungere risorse per sbloccare al più presto questa situazione invivibile. Ecco, Tomasi ha detto proprio, avremmo nei prossimi anni ancora lavori, ancora scambi di carregiato, ancora gallerie, quelle che adesso stiamo in qualche modo provando a sistemare. Dico, metterci una pezza, non ho usato questo termine, ma più o meno. Insomma, è quel era il concetto. Dovremo ritornarci fra qualche mese, fra qualche anno, nelle stesse gallerie. Quindi, insomma, non vediamo la fine. E poi, parlando con lei, a un certo punto a me mi ha un po' colpito, perché non l'ha detto tante altre volte. Quando ha detto, in passato non sono stati fatti per tanti anni tante cose. Lo ha messo, diciamo, non so se è per la prima volta, comunque in maniera molto chiara, davanti anche a esponenti importanti, in una sede prestigiosa e importante, dire per tanti anni, noi, anche se lui non c'era, non abbiamo fatto tante cose. Credo che la responsabilità di Autostrade sia evidente. Io non voglio andare qui a commentare le parole dell'amministratore delegato, ma la responsabilità di Autostrade è evidente. È evidente perché il ponte è crollato sotto i nostri occhi, un ponte che tutti abbiamo più volte percorso, con le nostre famiglie, con i nostri cari, che tutti denunciavamo da tempo, che aveva dei problemi, alcuni con grande forza e facendo battaglie perché venissero fatti lavori di adeguamento e di sicurezza. Lo stesso possiamo dire delle gallerie, quindi la responsabilità di Autostrade credo che sia evidente. Io spero che al più presto vengano accertate anche nelle sedi competenze le responsabilità dei singoli e spero anche quelle più generali di chi in quel momento governava e possedeva Autostrade. La tecnologia, la interrompo, perché mentre parla mi viene in mente i suoi collegamenti e la sua passione per la tecnologia. So che lei è anche un grande appassionato di tecnologia e tecnologia che può essere in qualche modo messa a servizio proprio dell'autostrade, ma potrebbe agevolare i flussi. La tecnologia è la mia professione, la mia competenza, ma credo anche che sia una grande opportunità per salvaguardare. Perché mentre si pensa a una prospettiva di medio e lungo termine, noi dobbiamo anche affrontare quelle che sono le problematiche che tutti i genovesi e i liguri hanno oggi e nel breve periodo. Serve quindi più di tecnologia, serve riuscire a usare ogni risorsa, ogni competenza per sbloccarci da questa situazione. La tecnologia può fare questo. Molto spesso viene utilizzata soprattutto da chi ha grandi mezzi, da chi ha grandi possibilità, magari per risparmiare sul personale, piuttosto che per andare a guadagnare di più. La tecnologia però è a servizio dell'uso che l'uomo ne vuole fare e può essere utilizzata invece per andare a risolvere problematiche molto complesse come quella dei trasporti e tante altre. Si tratta di dare un indirizzo chiaro e un indirizzo politico. In questo la politica è tornata a giocare un ruolo importante e a poter fare la differenza. Ci vuole però la volontà di fare un interesse generale che è appunto quello di mettere la tecnologia a servizio delle persone. Prima le ho chiesto se la Liguria come viene percepita a Roma, lei ha detto che è stato fatto meno rispetto al passato da Roma verso la Liguria, ma proprio a livello di importanza. Genova comunque è una delle prime cinque città d'Italia, la regione Liguria piccolina però ha la sua importanza. Com'è vista veramente? Come un brutto natroccolo? La città d'Italia è lì in una regione con mille problemi o in qualche modo sta crescendo un po' così l'appeal? Genova ha sempre avuto un grande appeal, lo ricordava bene lei. Stiamo parlando di una delle prime città del paese, di una grande città, una città di estrema bellezza e questo è riconosciuto da tutti. Quello che secondo me continua a mancare è entrare la Liguria all'interno dei grandi processi. Noi rincorriamo troppo spesso piccole manifestazioni, abbiamo l'ambizione di dire che siamo i primi nel fare qualcosa, quando nel mondo ci sono invece grandi sfide. Noi dobbiamo mettere di più Genova all'interno di un circuito di grandi città, come Milano, Torino, che possono dare un contributo al paese. Dobbiamo vederci di più come una città, una grande città che può dare un contributo. E invece molto spesso vedo un po' questa arretratezza nel voler difendere e voler vedere dei primati. Ci vuole invece una visione, una pianificazione più di lungo periodo e ci vuole secondo me anche il ritornare a essere una città che vuole fare le cose invece di volerle annunciare. Io vedo negli ultimi anni un po' un ritorno a quel provincialismo di fare grandi inaugurazioni, tagliare tanti nastri e invece avere meno progetti concreti per riposizionare Genova al centro di un'agenda politica. Lo ripeto, non ne sono contento, ma nell'ultimo anno c'è stato molto meno attenzione in termini anche di finanziamenti, di risorse date a Genova. Bisogna ritornare a essere presenti con progetti ambiziosi che ci consentano di dire che non siamo un problema, ma siamo un'opportunità per il paese. Senta, in un minuto mi dici cosa potrà accadere nel Partito Democratico il prossimo anno. Il Partito Democratico ha bisogno di fare tanta strada, gli auguro di poterla fare perché penso che ci sia ancora bisogno, di un partito strutturato, di sinistra, che guarda i più deboli e i più fragili. Sicuramente ha vissuto periodi molto complessi, ha delle difficoltà, ma io spero davvero che possa riprendersi e possa dare il suo contributo per il paese. Stato bravissimo, ancora 30 secondi. Chiuda gli occhi un attimo e si immagini la prima cosa bella che si immagina per lei, per il partito, per la Liguria in generale. Dovesse chiudere gli occhi 20 secondi, cosa immagina per il 2024? Io spero un 2024 in cui ci sia più attenzione ai più fragili. Ho un pensiero, ho parlato di futuro, ho parlato di tecnologia, ma spero che il 2024 abbia un'attenzione maggiore per le persone più fragili, in particolare per gli anziani. Siamo una delle città più anziane del mondo, penso ci voglia più attenzione per le persone anziane, per quelle sole, e spero appunto che possa migliorare la sanità, il sociale, le manutenzioni, possa migliorare la qualità della vita di tutte le persone anziane e sole. Bisogna lavorare tutti insieme su questo perché una città può guardare al futuro, sia al rispetto del proprio passato. Grazie, grazie senatore e buon 2024. Buon 2024 a tutti i Liguri.